Elena, Elena Agostini anche ci conosce da tantissimo tempo, è stata scoperta in varie mostre, ci ha delicchiato dei suoi lavori molto spesso. Oggi inizio con il sapro, ripreso da Giambattista Saldi, realizzato con paste modellabili, olio e foglie d'oro. Poi è un omaggio alla nostra tusha, un angolo particolare di Bolzena, sono bolzenese e quindi eccolo qua, con lo scorcio verso la Rocca di Bolzena. Tecnica? Tecnica Corello e Tina, io mi diletto con tante tecniche e l'ultimo con il panpastel, profano ma è un profano molto dolce, molto sensuale, fatto appunto con il panpastel. Spiegaci che cos'è il panpastel. Il panpastel si disegna praticamente e si colora con le ciprie, questo è un monocolore ho fatto, proprio con le ciprie, quindi si va a realizzare il chiaro, con queste spugnette si prende il colore e poi ci si passa sopra. Laddove c'è la luce ci si passa dolcemente, mentre laddove è più scuro ci sono tantissimi passaggi, anche per far valorizzare per esempio l'abito che sembra di velluto e quindi c'è un lavoro incredibile. Però a me appassiona molto questa tecnica, che è una delle tecniche che hanno scoperto da 7-8 anni in America. Noi di solito ci abbiamo in russo, però è molto bello. Grazie a tutti. Grazie.